Perché oggi davanti al cimitero monumentale? Perché proprio oggi, dal primo novembre, vogliamo riportare 23 imprenditori morti da inizio anno. 9.000 imprese che da inizio 2013 hanno chiuso per copa di questa crisi, per copa delle tasse, per copa del 70% di pressione fiscale che gli artigiani, i piccoli imprenditori e le medie imprese sono costretti a subire in questo paese. Questa è una vergogna!